In ospedale è arrivato da solo con uno scooter che ha detto di aver chiesto in prestito dopo essere stato ferito da due colpi di pistola nella parte bassa della schiena. Michele Sciacovelli, vent'anni, piccoli precedenti di polizia, per reati contro il patrimonio, non corre pericolo di vita. Ai carabinieri ha raccontato che stava camminando in piazzale Europa, una zona frequentata anche dai bambini, quando verso le 17 una persona che non conosceva si è avvicinata e è esploso i colpi, versione sulla quale gli investigatori nutrono non poche perplessità, visto che nel piazzale non sono stati trovati bossoli. Il ferimento del ventenne riaccende i fari su un quartiere che da un mese a questa parte non ha pace. Qualche giorno prima di Natale la sparatoria in via l'Europa, in cui solo per miracolo non è stato colpito nessuno, prima ancora una serie di intimidazioni a suon di Kalashnikov contro casa e altri quattro feriti dal 22 novembre ad oggi, sullo sfondo la guerra tra personaggi una volta legati allo stesso clan e ora divisi da interesse e rancore.